Altre 48 ore di gelo, neve e precipitazioni, ancora allerta quindi per il territorio brindisino con la protezione civile che ha comunicato l'allarme per condizioni meteorologiche avverse. Come già constatato, Brindisi e la sua provincia saranno interessate da forti venti di nord-est del genere grecale con raffiche superiori ai 30 nodi e precipitazioni con intense manifestazioni elettriche nevicate nella Puglia settentrionale e nelle zone di altezza superiore ai 300 metri per poi interessare anche le aree collinari di 200 metri. In questo senso saranno poste sotto controllo le zone di Ostuni, Cisternino e Fasano per le quali potrebbero presentarsi disagi dovuti alla presenza di neve in particolare nelle strade provinciali che dalla statale collegano i vari comuni e quelle comunali per la scarsa visibilità che le contraddistingue. La protezione civile inoltre non esclude il coinvolgimento di nevicate sporadiche o costanti nelle zone in pianura nelle quali rientrerebbero anche la città di Brindisi e le zone limitrofe che saranno comunque attraversate da forti concentrazioni di temporali previsti in avvicinamento al Basso Adriatico e all'Oionio con precipitazioni variabili tra i 10 e i 20 mm.